Ben ritrovati da Don Benedetto Rossi, Rettore del Santuario Casa di Sant'Ecaterina. Oggi in questo Giovedì Santo leggeremo il Vangelo di Giovanni in un luogo speciale, perché proprio davanti al Santo Sepolcro vivremo qui anche il mistero anticipato del dono di Cristo nel segno del pane, che poi diventa il segno della vita donato per sempre. Dal Vangelo secondo Giovanni. Prima della festa di Pasqua, Gesù sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore di Giuda, figlio di Simone e Scariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, decose le vesti, prese un asciugamano e se lo cince attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e quegli gli disse, Signore, tu lavi i piedi a me. Rispose Gesù, quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro, tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù, se non ti laverò non avrai parte con me. Gesù gli disse Simon Pietro, Signore, non solo i miei piedi ma anche le mani e il capo, soggiunse Gesù. Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro e voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse, non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse, capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, dite bene, perché lo sono. Se io dunque, il Signore, il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Parola del Signore. Ecco, questa parola così importante, sappiamo molto bene che il Vangelo di Giovanni non ha la istituzione dell'Eucaristia, ma presenta questo fatto strano. Gesù si trova a cena con i discepoli, quella che sarà l'ultima cena, e a metà tavola, fuori di ogni uso e costumo, si alza, quindi disturba quelli che sono a mensa per porre un segno di quello che poi accadrà veramente, un segno che è quello di servire, lavare i piedi. Ma il tutto parte dal concetto che li amò sino alla fine. Gesù vuole amare, è cosciente di quello che fa, perché l'amore o è cosciente o qualunque gesto di amore non è più amore. Gesù è cosciente di amare e vuole amare fino in fondo e far capire che l'amore non è qualcosa che nasce dall'alto, ma è una realtà che parte da basso. E così si mette ai piedi dei discepoli. Papa Francesco direbbe che i piedi sono la parte estrema di ogni uomo, quella che ti si sporca di più, quella che non è amabile, quella che non è accettabile. E Gesù significa che prende la parte estrema di noi, quella sporca, quella che non si vuole. Il dono dell'Eucaristia ci fa capire fino a che punto il Signore ci ha, ma quanto è difficile accogliere questo amore. La riserva di Pietro è un po' la riserva di ciascuno di noi. Pietro non ammette che il Signore, il Maestro, si abbassi. No, lui è titolato, se uno deve morire, devo morire io, se uno devo servire, devo servire io. E non pone resistenza a lasciarsi amare. Quanto è difficile lasciarsi amare fino in fondo. Noi saremo capaci magari di tanti gesti, di dono, di oblazione, ma la realtà gratuita dell'amore sembra che ti ferisca e non riesci ad accettarla. Il Signore ci fa capire questo nel mistero dell'Eucaristia. Qui, sul Calvario, che donerà se stesso fino in fondo, abilitando la nostra vita all'amore. Finché io non accetto di essere amato e lavato fino in fondo, io non comprenderò il mistero dell'amore di Dio. E poi, ecco quello che dice Gesù. Non basta porre un segno, vuole che se ne rendano conto. Capite quello che vi ho fatto. Perché altrimenti poteva passare un'altra stranezza che il Signore ha fatto. No? Fa un gesto e lo vuole interpretare. Cioè, quella interpretazione è il dono reale che dopo farà di sé sulla croce. E tutto questo non è per essere semplicemente spettatori di un evento o fruitori e goditori di un dono. Perché questo dono ricevuto ci abilita, fino in fondo, a fare lo stesso gesto. Ecco perché Gesù dice, dice, quello che ho fatto io, fatelo voi. Non si tratta solamente di ripetere il gesto dell'eucaristia che il sacerdote fa ogni giorno, ma di fare, cioè la logica di incarnazione e appropriarcene per diventare anche noi pane spezzato e eucaristia donato, amore donato fino in fondo. E quest'acqua che Gesù versa sul catino. Bellissimo. Pensate che la parola catino è l'unica volta in tutta la scrittura. Nipto. A me piace vedere che quell'acqua è l'acqua che uscirà dal costato di Cristo, è l'acqua del suo amore, della sua grazia. Il catino ha una dimensione simbolica, un piccolo contenitore, come è ciascuno di noi, come è la Chiesa. Io dico sempre che l'importante è essere un catino, una cosa bellissima. Basta non essere una passatoia, perché la passatoia, lo scola passa, la pasta fa sì che l'acqua è non raccolta. Noi piccoli contenitori raccogliamo la grazia del Signore per permettere davvero alla nostra vita di essere generata. Ma attento. Il Signore dice cominciò a lavare, cioè la sua è un'azione di inizio, perché questa azione deve essere continuata da ciascuno di noi. Come comincia a lavare, come comincia ad asciugare. Un'azione completa che parte naturalmente dal lavare e dalla restituzione in dignità. Perché? Quest'azione dell'asciugare non è banale, perché se non l'avesse asciugato avrebbe ancora di più sporcato. È quello che il Signore ci vuole dire. Inizia a lavare ma fai un'azione completa che va da là alla zeta. Se il commento al Vangelo ti è piaciuto, clicca qui sotto su iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui contenuti del canale YouTube della Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino.